La ricerca scientifica d'eccellenza e l'imprenditoria dell'aerospazio si incontrano a Napoli in occasione della 63esima conferenza internazionale dell'astronautica, in programma alla mostra ad oltremare dal 1 al 5 ottobre. Più di 3.000 partecipanti da 70 nazioni si riuniranno per discutere e decidere strategie del settore spaziale, dell'esplorazione interplanetaria e dell'osservazione satellitare. Interverranno fra gli altri l'amministratore della NASA Charles Bolden, il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea Jean-Jacques Dordain, gli astronauti italiani Roberto Vittori e Paolo Nespoli e l'astronauta statunitense Edwin Aldrin che con Neil Armstrong e Michael Collins fece parte della storica missione Apollo 11. Questa grande conferenza mondiale è un'ulteriore conferma della centralità della filiera aerospazio per la regione Campania e per Napoli. Il 2012 anche i primi sei mesi confermano la grande dinamicità di questa filiera. Il nostro export aerospazio campano è cresciuto oltre il 25% i primi sei mesi del 2012. La conferenza è stata inaugurata da Enrico Saggese, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e da Bert Feuerbacher, presidente della Federazione Internazionale Astronautica. Il sindaco De Magistris e il presidente della regione Caldoro hanno dato il loro benvenuto ai partecipanti. Napoli ha una tradizione importante di piccole e medie imprese sull'innovazione tecnologica e proprio sull'aerospazio. Noi abbiamo università molto importanti all'altezza della sfida, penso a ingegneria ma non solo ingegneria. Questa organizzazione è stata fatta in un momento storico in cui noi siamo senza soldi. Fra gli appuntamenti di maggior interesse, la relazione di Robert Cook sul programma di esplorazione di Marte, il focus sul monitoraggio satellitare dei disastri naturali e lo space tour presso le scuole di Forcella, Ponticelli, San Giorgio a Cremano e Castellammare.